Signori 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 Mamma invoca aiuto, ma è finita, e il pittore sorride perché sa, quanta miseria la vernice coprirà. Quel che è corroso col bianco non si vede, la gente vede lucido e ci crede. Ma il pittore sorride perché sa, quanta miseria la vernice coprirà. Ma il pittore sorride perché sa, quanta miseria la vernice coprirà.